proprio qui qui è dove c'è il problema abbiamo le stelle che si vedono attraverso la terra questo livello è stato posizionato male probabilmente dovevano inserirlo dietro la terra ma in realtà si vede attraverso la terra perché le stelle le abbiamo qui ed abbiamo le stelle che si vedono attraverso la terra hanno posizionato male questo livello le cinque presunte ore della passeggiata spaziale di thomas perché sono state prese dal video ufficiale esa dato che la iss orbita la terra ogni 90 minuti si può sperimentare l'alba o il tramonto ogni 45 minuti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.